Una grande, grande partita della Dea. Andiamo da Stefano Mattei. Eh sì, perché l'Atalanta se l'è giocata fino all'ultimo, ha spaventato la squadra campione d'Italia da cinque anni consecutivi. Sì, devo dire, insomma, secondo tempo è stato veramente importante per noi giocare a questi livelli contro la Juventus, che è la squadra indubbiamente più forte. Abbiamo fatto anche benino il primo tempo, dove però loro il gol di Dybala aveva cambiato un po' gli equilibri e poi avevamo sofferto un po' di più, ma globalmente la gara è stata veramente buona. Ecco, l'aspetto positivo di questa bella Atalanta, che sta facendo benissimo in campionato, è che sul 2-0, sul 3-1, in casa della Juventus, ha sempre creduto nel risultato. Sì, questo è l'aspetto che veramente mi è piaciuto moltissimo. Siamo riusciti anche ad essere concreti, così al primo tempo ci presentavamo spesso lì al limite, però poi mancava sempre qualche cosa. Nel secondo tempo siamo riusciti ad essere anche più continui, più concreti e farlo contro la Juventus è stato veramente un bel test. Ecco, prima ne parlavamo, vuoi dire, ai microfoni spenti. È un po' una formula che indubbiamente per le cosiddette piccole crea problemi, perché andare a vincere in casa delle più grandi è difficile. No, vabbè, questa è una formula, io personalmente non amo questa competizione, perché potrebbe essere una delle competizioni dove anche squadre magari tra le migliori o tra le più blasonate possono arrivare a competere, ma invece così è veramente molto difficile e penso sia l'unica competizione dove c'è un grandissimo vantaggio alle squadre più forti. Studio. Sì, grazie Stefano. Tancredi, Palmeri per Gasperini. Salve mister, esattamente un mese fa da questo divano io le chiesi se c'era un destino che la inseguiva dal Genova, perché lei aveva lasciato, insomma, il Genova sale da giorni principali perché le smontavano la squadra a fine stagione e spesso a metà stagione, e lei disse no, per questa volta almeno fino a giugno dovrebbero rimanere. Le cose dopo un mese sono già cambiate, allora le chiedo la sorpresa della situazione e si crede di meritarsi finalmente un'occasione, una squadra che non smonta la squadra a gennaio, che non vende a gennaio? Beh, però certe situazioni in mercato sono veramente imprevedibili, era nella volontà principalmente della società, del presidente, di tutta la famiglia, non modificare la squadra, però poi dopo è chiaro che di fronte a certe offerte, certe situazioni, e anche poi il giocatore stesso è andato all'Inter, per noi è sicuramente una perdita notevole, però poi abbiamo visto, insomma, che il nostro compito alla fine è una sensazione... C'è un giocatore, non è mezza squadra. Che debba essere questo, poi alla fine abbiamo visto anche questa sera, sì, battagli, arrivi tante volte vicino, ma le sproporzioni economiche sono veramente tante. Antonello Angelini per lei, mister. Volevo chiedere al mister se è stato più l'Atalanta a salire nel secondo tempo o la Juventus a calare? Un'altra brevizia domanda, curiosità personale, se le piacerebbe allenare la Juventus e se magari in questo un po' il fatto di essere andato anni fa all'Inter le può procurare qualche limite, visto la non amicizia tra le tifoserie. No, non credo che siano questi limiti, sono sicuramente di altra natura, non questi. No, sono soddisfatto della prestazione di questa sera, insomma. È stata una partita importante perché rispetto a un mese fa in campionato noi siamo riusciti a giocare con un altro piglio, con un altro piglio, con un'altra sicurezza, anche magari in svantaggio di risultato. E questa è una soddisfazione enorme. Poi io veramente in questo ambiente sto trovando delle gratificazioni, delle soddisfazioni notevoli. È chiaro che non lotti per vincere il campionato, però insomma già partite o risultati come stiamo tenendo in questi mesi sono ancora più apprezzati. Allora Massimo Caputi e poi Sergio Brio. Buonasera Casperini, complimenti naturalmente per la prestazione, ma non solo per la prestazione, per quello che state facendo. Io ho visto che hai cambiato più volte la squadra tatticamente, soprattutto all'inizio del secondo tempo. Perché non eri contento di quello che stava accadendo o perché stavi cercando la formula migliore per mettere in difficoltà la Juventus? Un po' tutte e due le cose, ma anche per fare delle prove io, perché in questo giro and'andata abbiamo trovato degli equilibri molto buoni, anche a secondo di squadre che abbiamo incontrato, che usano moduli diversi e come possono anche giocare questa sera la Juventus oppure in altre situazioni, abbiamo sempre trovato dei buoni equilibri. Andando via a Gagliardini e non essendoci chessi in questo momento perché impegnato nella Coppa d'Africa, abbiamo bisogno soprattutto a centrocampo di ritrovare un po' di equilibrio e soprattutto di giocare per giocatori come Grassi oppure stasera a un certo punto ha giocato anche con Coe e quindi abbiamo provato anche di un modulo diverso. E dico che è andata bene, insomma, è andata bene. Abbiamo ancora più di utilità e più possibilità di... C'è una squadra anche che noi approfitta di queste partite anche per sperimentare un po' e per trovare anche nuove situazioni, nuove imprevedibilità possibilmente. Sergio Brio. Buonasera Gian Piero, ciao. Ciao, ciao. Senti, dopo, siccome le citano poco le tue doti, no? Tu hai fatto delle scelte importanti in un momento difficile anche prima di Crotone, dopo Crotone. Hai messo da parte dei giocatori importantissimi lanciando dei giovani. Tutti lo dicono poco, ma è la verità. Tu hai rischiato, ma ci hai visto giusto e poi i risultati ti hanno dato ragione, no? Abbiamo visto quanti giovani hai tirato fuori e con che gioco e con che risultati. Siccome lo dicono poco, voglio dirtelo io a te. Grazie, grazie, Sergio. Beh, poi stasera ha esordito un ragazzo del 99 e ha fatto anche gol. Approfitto del fatto che l'Atalanta da sempre ha un settore giovanile, un vivaio importante. Quando sono arrivato vedevo questi ragazzi che magari erano stati poco utilizzati e forse è il momento migliore anche per esprimermi per me. Anche se devo dire, la mia carriera ho allenato Milito, Motta, Palazzo. Non è che ho allenato solo dei giovani. Ho allenato anche, ho avuto la fortuna di avere giocatori molto importanti. Però credo che qui a Bergamo sia il profilo migliore. Poi bisogna adattarsi un po' alle situazioni delle varie piazze. Qui sicuramente credo che questo sia il profilo migliore per un po' per tutta l'ambiente, la città, la società. A te Stefano. Sì, perché a questo punto il campionato riprenderà, sarà l'unico obiettivo perché la Coppa Italia è andata via, anche se con qualche rammarico. Ma l'Atalanta punta a far bene o punta all'Europa? Perché a questo punto siete lì, potete giocarvela già per esempio domenica, scontro diretto contro la Lazio. Sì, è vero. La classifica dice questo. La classifica dopo 19 partite, quindi dopo un girone, ha un suo significato. E' chiaro che non sarà facile ripetere quello che abbiamo fatto a girone d'andata, ma noi, al di là di quello che saranno i risultati, per noi è importante la crescita e constatarlo in partite come quella di questa sera. Un mese fa con la Juventus non avevamo questa, o due mesi fa quando è stato, non avevamo questa sicurezza, questo piglio, questo modo di giocare. Queste sono cose che per me sono priorità fondamentali. Vediare la mia squadra muoversi, giocare, rischiare, ma anche ottenere dei risultati, penso sia il mio obiettivo primario. Poi dopo, se arriva l'Europa, questo lo potremo vedere però tra 9-10 partite. Gasperini, aspetta Stefano, Gasperini c'è solo un secondo, guardi, approfittiamo della sua pazienza, perché c'è Tancredi e Palmieri che non resiste. Questa risposta le volevo chiedere una cosa, anche da un punto di vista statistico. Lei dice, stasera, comunque sia, queste partite servono anche per fare degli esperimenti. Però, quando puoi parlare del campionato, dice, la classifica, insomma, vediamo tra un po'. Però io dico, mancano statisticamente, attraverso la Coppa Italia, con 4 partite si va in Europa League. In campionato ne servono 19 ancora per arrivare in Europa League. Oggi lei ha fatto, comunque sia, un turnover consistente, che per una squadra come l'Atalanta si sente. Ha giocato una signora partita, però, per esempio, Gomez, il migliore della squadra da tutto quest'anno, era in panchina. Perché allora non provare la via dell'Europa League per la via stretta, la Coppa Italia, e non dal campionato? Eh, ma ci abbiamo provato anche questa sera, anche noi ci abbiamo provato. Però è chiaro che questa formula penalizza pesantemente la possibilità di squadre, e non di prima fascia ad arrivare avanti in questa competizione. È una competizione veramente assurda sotto questo aspetto. Non è una competizione equilibrata, è una competizione che tende a favorire pesantemente le squadre più importanti, portarle con poche partite giocate in casa. Se la stessa partita fosse stata giocata a Bergamo, magari passerebbe la Juventus lo stesso, ma avevamo qualche chance in più perché a giocarla in trasferta. Oppure andata a ritorno, magari sarebbe stato più precisa. In questo modo è chiaramente un peso in più a squadre che sono già sicuramente più forti. Grazie Casperini. Nel salutarla, le dico che stanno arrivando una marea di tweet sul profilo di Rai Sport, dove oltre ai complimenti all'Atalanta, chiaro, non ha vinto la partita, ma è innegabile la qualità del gioco. La squadra è veramente rivelazione, non soltanto per i risultati e la posizione in classifica in campionato, ma anche per il gioco che esprime, per i rischi che si prende, per la bellezza di questo campionato. Ha dato veramente una svolta incredibile a un campionato, parliamoci chiaro, negli ultimi anni è decisamente appiattito, ecco. Posso dire che per me, non dico come vincere il campionato, però è una grandissima soddisfazione questo, riuscire a avere chi vede giocare all'Atalanta, vede calcio che lo soddisfa, questo è un obiettivo che noi perseguiamo, riuscire a contentare non solo i nostri tifosi, ma a volte anche tanti tifosi di altre squadre, per noi è sicuramente un vanto e una soddisfazione. Grazie, grazie a Gasperini. Grazie a voi, arrivederci. Complimenti Stefano, quando avrai bisogno una linea, noi te la restitueremo immediatamente. Adesso andiamo a vedere quello di cui abbiamo parlato sinora, e cioè la sintesi. Tra parentesi, il premio Champions l'ha già preso Gasperini all'Atalanta, 22 milioni per Gagliardini. Pensate che poi non l'ho distribuito la squadra. Allora, andiamo a vedere la sintesi, Alberto Rimedio.